Bene, direi che possiamo cominciare. Allora, intanto, grazie a tutti per essere qua e soprattutto al professor Vignucolo, ovviamente. Per chi non lo sapesse, vi racconto un po' chi sono i leds. L'EDS è un'associazione di studenti di Ingegneria dell'Energia Elettrica ed Energetica del Dipartimento Ingegneria Industriale di Unipd. Ci occupiamo di organizzare, appunto in questo caso si tratta di un webinar, ma facciamo eventi abbastanza diversificati. In ogni caso, andiamo un po' a complementare quella che è la formazione curricolare dell'università. Vi dico già che, a proposito di questo, il prossimo evento, che si tratta appunto settimana prossima, potrebbe essere molto interessante per chi di voi è iscritto alle nostre stesse facoltà, quindi Ingegneria dell'Energia, Ingegneria Elettrica e Energetica, perché si farà un po' di orientamento anche sia portando stesse stimolante di studenti e magistrali che di persone che sono già nel mondo del lavoro, neolaureati e un po' meno neolaureati, che risponderanno anche a eventuali domande che potete avere. Insomma, io personalmente sono in quest'ambito ormai da anni e comunque ho i miei dubbi sulla mia carriera futura, quindi penso che potrebbe essere interessante per chi non ha ancora idee estremamente chiare. Oggi andiamo a parlare di smart grids, come potete leggere dal titolo dell'evento. Si parla quindi di andare a supportare lo sviluppo della rete elettrica nei termini di integrare generazione rinnovabile e soprattutto generazione distribuita, quindi il fotovoltaico domestico come elemento di distinzione, ecco, non con una potenza della rete ma con l'intelligenza della stessa, per dirla in soldoni. Il nostro ospite Fabio Bignucolo è il professore associato, quel dipartente di ingegneria industriale e lui fa ricerca ormai da, penso, una decina di anni nel campo delle integrazioni delle rinnovabili in rete, poi mi dica se sto sbagliando, ma più sia così. Per quanto riguarda le domande, se ne avete, scrivetele in chat e vi daremo la possibilità di risponderle nell'ordine in cui le avete scritte una volta conclusa l'introduzione da parte del professore. Un'ultima cosa, se volete restare dopo la fine dell'evento per fare quattro chiacchiere con noi, che dopo ci fermiamo a fare riunione, perché siete interessati a lezzo, perché volete conoscerci meglio per qualunque ragione, potete restare, non vi cacciamo. Bene, a questo punto ringrazio ancora il professore, gli lascio la parola. Grazie Giulio, vado a condividere la presentazione che non vuole assolutamente essere una lezione, ma vuole essere una base di discussione. Quello che ho cercato di portarvi in questo incontro sostanzialmente è una definizione della dimensione del problema e alcune possibili soluzioni che si possono mettere in campo a diversi livelli, quindi sia a livello di trasmissione che a livello di distribuzione, un po' di disegnare quelle che possono essere le caratteristiche di una smart grid e lasciarci alla fine con qualche punto di discussione che riguarda un po' la transizione energetica e l'integrazione delle rinnovabili, perché in base anche alle risposte che potremmo dare a queste domande cambia un po' il paradigma, quindi impiante grande, impiante piccolo, coinvolgimento o meno di altri settori nello sviluppo delle rinnovabili elettriche e quant'altro. Quindi io avrei pensato un intervento che dura circa metà del tempo, diciamo da un punto di vista mio, per poi lasciare un bel ampio spazio alle domande che possono partire dagli elementi di discussione, possono riguardare curiosità o quant'altro che ritenete interessanti. Inizierei con una fotografia, perché bisogna sempre partire da quello che è lo stato attuale. Il mese scorso è uscita l'ultima pubblicazione del GSE che fotografa il sistema elettrico al 2019, quindi giusto per focalizzarci un attimo, circa 300 TWh all'anno di consumo elettrico, è previsto un aumento del consumo nel prossimo futuro, soprattutto per l'elettrificazione di altri settori. Quindi ad esempio la ricarica dell'auto elettrica comporterà un aggravio non significativo, ma diciamo non trascurabile, ad esempio del consumo elettrico. Importante è dove siamo arrivati ad oggi come produzione da fonti rinnovabili, 35,2%. Quindi è un valore che cresce molto poco, diciamo, negli ultimi anni, e che è ancora inferiore a quello che è il principale combustibile fossile, che è il gas, circa 43%. Abbiamo ancora un 5% di carbone, abbiamo pianificato un phase-out entro quattro anni, vedremo se riusciamo effettivamente a garantire questa soluzione. Quindi da queste fotografie vediamo che l'elettro innovabile sta al 35,3% del consumo elettrico. Quindi in prima approssimazione uno potrebbe dire, vabbè, triplichiamo il parco innovabile italiano, abbiamo risolto il problema. Ma in realtà vedremo che non è assolutamente così, dobbiamo fare molto ma molto di più. La situazione mondiale, peraltro, è abbastanza simile a quella italiana e limitandoci a quello che è il contesto europeo, ho, diciamo, riportato questa immagine che ci dà sostanzialmente quella che è la ripartizione del consumo finale lordo di energia sui diversi canali di provvigionamento. Quindi prodotti petroliferi, gas, energia elettrica, calore derivato e carbone. Se guardiamo un attimo l'Italia, l'Italia sostanzialmente è abbastanza lineata a quella che è una media europea, quindi più di un terzo sono prodotti petroliferi, il 28% è gas, il 23% è energia elettrica. Quindi la fotografia che abbiamo visto nella slide precedente riguarda in realtà meno di un quarto dei consumi energetici totali e di questo 23% solo una parte è prodotta da rinnovabili. Quindi sostanzialmente quello che dobbiamo andare a fare per garantirci una transizione completamente sostenibile è andare non solo a smacchiare questa nuvola che vi ho indicato adesso che sono i consumi da prodotti petroliferi, gas e carbone, ma anche la quota parte di consumi fossili per la produzione di energia elettrica. Quindi capite bene che quello che dobbiamo andare a ristrutturare è un settore energetico abbastanza ampio. In passato ci sono dati degli obiettivi, il piano di azione nazionale, un piano diciamo che ormai risale a una quindicina di anni fa, ci dava delle traiettorie, ci dice che sostanzialmente le abbiamo rispettate con ampio anticipo, anche analizzando queste traiettorie nei sottosistemi termico-trasporti, elettricità, vediamo che mediamente siamo stati bravissimi perché siamo stati in grado di raggiungere gli obiettivi che ci avevamo dati. Il problema è che questi obiettivi erano troppo bassi, nel senso che queste traiettorie target erano assolutamente insufficienti per garantirci una transizione energetica sostenibile come abbiamo avuto modo di verificare con i nuovi obiettivi che ci siamo dati, ad esempio il PNEC e il Green New Deal a livello europeo. Quindi sono cambiati gli obiettivi, sono obiettivi che sono molto più sfidanti e crescono molto più velocemente. Per ottenere questi obiettivi, come possiamo fare? Beh, la soluzione che appare più credibile e più applicabile anche nel breve periodo, perché stiamo parlando da qui al 2030, non stiamo parlando di un piano che riguarda i prossimi 50 anni, è quello di trasferire sul vettore elettrico una serie di altri consumi energetici. Quindi trasferire sul dominio elettrico una parte dei consumi di energia dei trasporti, quindi il trasporto ferroviario, l'auto elettrica, il settore commerciale e dei trasporti pesanti sul vettore elettrico e trasportare i consumi termici sul vettore elettrico, quindi pompa di calore in ambito di riscaldamento e affrescamento, processo di induzione, forni elettrici e quant'altro. Quindi sostanzialmente tutto questo andrà ad aggravare ancora quello che è il consumo di energia elettrica e di conseguenza avremo bisogno ancora di più di installazioni rinnovabili, che poi vedremo che caratteristiche potranno avere. Dicevamo vettore elettrico perché? Perché è flessibile, perché è pulito, perché è capillare, perché è indispensabile, ormai nessun tipo di processo è esente da energia elettrica, e perché potenzialmente è quello più flessibile al cambiamento. Noi prendiamo un sistema tradizionale basato su grandi centrali di tipo fossile, andiamo a spegnere le centrali fossili, andiamo a mettere gli impianti fotovoltaici piuttosto che gli impianti eolici. Eventualmente aggiungiamo anche qualche impianto qua e là, in media tensione e bassa tensione, che richiamiamo generazione distribuita, e abbiamo risolto il problema. Ecco, questa ovviamente è la visione semplicistica e assolutamente lontanissima dalla realtà, perché abbiamo un sacco di aspetti che dobbiamo gestire, sia in termini di equilibrio del sistema, sia in termini di stabilità. Quindi è vero che andando a rendere rinnovabile il sito elettrico non entriamo negli usi finali dell'utente, quindi non dobbiamo andare a cambiare il paradigma sull'utilizzazione d'energia, ma sicuramente dobbiamo fare una serie di considerazioni a livello di trasmissione e a livello di distribuzione. Quando facciamo delle considerazioni a livello di distribuzione, il focus è appunto quello delle smart grid, ovvero delle reti intelligenti, che non sono più dei semplici canali per distribuire l'acqua dal pozzo verso gli utenti, ma sono dei sistemi bidirezionali e orizzontali che coinvolgono i vari componenti. Ovviamente dobbiamo andare a considerare tutta una serie di aspetti che sono imprescindibili, ad esempio la localizzazione delle fonti primarie, perché necessariamente se le fonti primarie sono molto lontane rispetto al centro di consumo, dovremmo passare per la rete di trasmissione. Se invece andiamo a utilizzare delle fonti primarie che sono vicine al centro di consumo, ecco che la cosa diventa più confinata da un punto di vista spaziale e di conseguenza possiamo limitarci al dominio della distribuzione. Dal mio punto di vista è imprescindibile un potenziamento dell'infrastruttura di trasporto, anche per andare a compensare quelle che sono le problematiche derivanti dalla non sincronicità tra il consumo e la generazione. Pensate ad esempio al fotovoltaico che è fortemente concentrato nelle ore diurne, mentre il carico è abbastanza distribuito sulle 24 ore. Altro aspetto molto importante da considerare sono strutture sia tecniche che economiche per garantire la stabilità del sistema elettrico, quindi garantire che ci siano delle risorse per la stabilità del sistema e remunerarle opportunamente in modo tale che effettivamente siano disponibili a fare questa funzione. Ci siamo dati degli obiettivi, ovviamente non vi vado per parlare nel dettaglio del piano nazionale per l'energia e clima, ma vado a fare un focus su alcuni aspetti specifici che riguardano quello di cui stiamo parlando oggi. Il main target è andare a coprire il 30% dei consumi finali di l'ordine di energia in il 2030, partendo da circa un 18,3% nel 2017. Questo significa sostanzialmente che quasi un terzo dei nostri consumi finali di l'ordine saranno coperti da innovabili al 2030 se riusciremo a soddisfare questi obiettivi. Questo main target è stato ripartito su tre sottotarget, uno che riguarda l'energia elettrica, uno che riguarda i trasporti, uno che riguarda il calore. L'energia elettrica saliva fino al 55% dei consumi finali di l'ordine di energia elettrica, partendo dal circa 34% nel 2017 e entro il 2030. Questo significa che dovremmo andare a produrre 187 terawattora da rinnovabili, mentre adesso ne produciamo 113. Per farlo dobbiamo aumentare la potenza generata di generazione rinnovabile e gli scenari individuati prevedono sostanzialmente un forte incremento della generazione solare, più 32 gigawatt, e circa 10 gigawatt aggiuntivi di energia elettrica. Sul settore trasporti si prevede di più che quintuplicare la quota coperta da rinnovabili, quindi passare dal 5% nel 2017 al 22% nel 2030. Questo attraverso l'utilizzo dei combustibili avanzati e l'introduzione di veicoli elettrici, di cui si stimano 6 milioni di veicoli, di cui 4 puramente elettrici. Settore termico passare dal 20 al 33% nell'uso delle rinnovabili e questo sostanzialmente attraverso le pompe di calore, che di nuovo vanno a caricare il loro consumo sul sistema elettrico e peraltro in contesti che tipicamente ricadono nell'ambito della distribuzione, perché parliamo delle case, parliamo dei centri commerciali, parliamo del settore, diciamo delle tipologie di utenti che sono connesse alle reti di distribuzione. Mi prometto di fare un brevissimo focus su questo grafico a destra, perché dobbiamo capire cosa significa questi due numeri, questo 32,3 gigawatt e 9,5 gigawatt e olici. In primis una nota, è un'ovvietà, però è bene non trascurarla. Noi vogliamo produrre energia rinnovabile, quindi produrre gigawattora rinnovabili. Il target che abbiamo qui è una taglia in potenza nominale, si dà per scontato che gli impianti siano funzionanti ed efficienti, ma ovviamente dovremmo essere in grado di sviluppare impianti funzionanti ed efficienti, quindi essere in grado anche di garantire una corretta producibilità di questi impianti. Ma cosa significa in termini spaziali o dimensionali, se volete, questi due valori? Torniamo a 2,3 gigawatt di impianti fotovoltaici, facendo un calcolo molto approssimativo, ci significa circa 160 milioni di metri quadri di pannellature, se consideriamo l'attuale migliore tecnologia che c'è in commercio per le applicazioni terrestri. In altre parole, 22.500 campi da calcio. Dopodiché dobbiamo considerare che i pannelli li possiamo mettere tutti tipo piastrelli uno accanto all'altro, perché li dobbiamo disporre in maniera tale che non sia un belleggino tra di loro. Quindi la superficie quadri in pianta sale a circa 260 milioni di metri quadri. Detto così, sembra un numero grandissimo, in realtà se lo trasformiamo in chilometri quadri diventano 260, e se li rapportiamo con la superficie italiana, ci rendiamo conto che è meno dell'1 per 1000 della superficie italiana. Tradotto su qualcosa di più locale, 260 milioni di metri quadri, ovvero 260 chilometri quadrati, è circa tre volte la superficie del comune di Padova. Se parliamo invece dei 9,5 gigawatt eolici, sostanzialmente significa avere circa ulteriori 3000 torri, con altezza all'albero di 100 metri, e un diametro palare comparabile, sempre nell'ambito intorno ai 100 metri. Con questa soluzione abbinata alla transizione verso l'elettricità dei trasporti e del settore termico, riusciremo ad arrivare, teoricamente, a coprire il 30% dei consumi finali all'ordine di energia al 2030. Sembrano interventi richiesti molto grandi, molto impattanti, ma ancora la neutralità energetica sarebbe ancora lontana, perché appunto riusciremo ad arrivare a meno di un terzo rispetto a quello che è il consumo finale all'ordine di energia stimato. Come conseguire tutto questo? Quindi sicuramente maggiore elettrificazione dei settori energetici, quindi un aggravio del carico che va a insistere sulle reti. La generazione elettrica da innovabile, qui dobbiamo capire dove localizzarla, in funzione a dove è disponibile la fonte primaria. L'utilizzo di sistemi per andare a compensare i diversi diagrammi di carico rispetto al diagramma di generazione. Quindi storage, storage elettrochimico, coinvolgimento dell'auto elettrica, o diciamo in una scala temporale un po' più lunga, l'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico. È ovvio che l'idrogeno non è una fonte energetica, è un vettore. Possiamo trasformare in idrogeno un surplus di generazione elettrica per poi riconvertirlo per la produzione elettrica in un altro orario, oppure utilizzarlo come fonte, ad esempio in un processo a combustione. Di base, dobbiamo aumentare di molto la generazione rinnovabile attuale. Aumentare di molto la generazione rinnovabile attuale significa sostanzialmente andare a costruire una serie di impianti che possono essere di tipo, di grande taglia, quello che è chiamato utility scale, o impianti di più piccola taglia abbinati alle utenze. Quando parliamo di impianti di piccola taglia, penso soprattutto, parlando di bassa tensione, parlando dell'ordine di kilowatt, decine di kilowatt, a impianti fotovoltaici. Questi possono essere abbinati abbastanza efficacemente con le utenze domestiche, ma anche con quelle industriali e commerciali, sviluppare i concetti di comunità energetica in cui più utenti si scambiano energia, alcuni lo producono, alcuni lo consumano, e altre alternative commerciali che stanno iniziando a prendere piede con dei progetti pilota anche a livello nazionale. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare, ci sono anche gli impianti di grande taglia che possono avere un interesse significativo in relazione a delle ottimizzazioni costruttive che possono abbattere quello che è il costo di produzione dell'energia attraverso queste tipologie di impianti. Di grande taglia, penso in primis, a fotovoltaico e eolico, come abbiamo detto in precedenza, ma anche, perché no, a idroelettrico o mini idroelettrici da inserire nelle reti di distribuzione, soprattutto in relazione a quelle che sono le tematiche della gestione dei corsi d'acqua e delle licenze di utilizzo dell'acqua. Se parliamo a lungo periodo, ci sono anche altre tecnologie che mi aspetto siano di grandissima taglia, ma se vogliamo focalizzarci al 2030, dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo a disposizione già adesso, da un punto di vista commerciale o perlomeno pre-commerciale. Di base, secondo me, la soluzione sarà un mix, perché è impensabile pensare di fare tutto con una sola tecnologia di una sola taglia, ci sarà una presenza di tecnologie e di taglie diverse. Quindi sia la tematica del grande impianto allacciato alla rete di trasmissione, sia la tematica dell'impianto piccolo o medio allacciato alla distribuzione. Ecco, giusto per vedere da dove siamo e qual è, diciamo, lo sviluppo atteso nel prossimo futuro, qui vi ho permesso quello che è la potenza installata da rinnovabile in Europa, dove vedete che c'è stato un boom di fotovoltaico ridosso del 2009-2011, boom che abbiamo visto anche in Italia per effetto del conto energia, dopodiché la situazione si è abbastanza cristallizzata negli ultimi anni anche in termini di ripartizione pro quota della complessiva potenza generata. C'è un trend di crescita tendenziale, ma sostanzialmente questo trend coinvolge un po' tutte le tecnologie con una, diciamo, derivata di crescita abbastanza similare. Abbiamo detto dobbiamo installare circa 42 gigawatt di impianti rinnovabili in Italia 2030, ecco, fotografiamo il dato 2020 che è uscito qualche giorno fa più 785 megawatt. 785 megawatt è sempre un numero grande confrontato con 42,8, ma in realtà con la 2,8 sono gigawatt, quindi sono 41.800 megawatt e di conseguenza se andassimo avanti con questo step di crescita ci metteremo 50 anni raggiungere gli obiettivi che siamo dati in realtà in 10. Quindi sicuramente ci dovrà essere un'impennata, un'accelerata della crescita delle installazioni che andrà a enfatizzare quelli che sono alcuni impatti che questi impianti hanno sulla rete e che dovranno essere risolti. Quindi sono richieste delle soluzioni, sono richieste velocemente, perché altrimenti non riusciamo a garantire il soddisfacimento di questi obiettivi. Faccio anche un breve accenno alla mobilità elettrica, perché mobilità elettrica significa colonine di ricarica tipicamente collegate alla rete di media e bassa tensione, significa avere un carico nuovo che in passato non avevamo, soprattutto se parliamo di ricarica serale e significa avere anche un possibile soggetto regolante in più che può fornire dei servizi per la lavorazione della rete. Sicuramente la mobilità elettrica è vista un po' da tutti come uno degli asset principali per la transizione energetica sostenibile e fortunatamente le cose si stanno muovendo, perché se vedete in questa tabella piuttosto che nel grafico, vedete come il mercato dei veicoli che sono completamente o parzialmente elettrificati sta crescendo in maniera significativa. Qui vedete in rosso gli ibridi, in azzurro i plug-in e in nero i full electric. Ad esempio il mercato italiano conta un po' o meno di 2 milioni di veicoli all'anno e nell'ottobre del 2020 ha venduto il triplo di veicoli elettrificati rispetto all'ottobre del 2019. Nel mercato europeo nel settembre del 2020 c'è stato lo switch, ovvero gli elettrificati hanno superato le auto diesel immatricolate e la stessa cosa fortunatamente è successa anche in Italia. Qui trovate una scansione dell'ultimo quattro ruota di aprile di quest'anno dove vedete sostanzialmente le ibride hanno sorpassato significativamente il diesel e stanno raggiungendo la quota di mercato della benzina. Le cose si stanno muovendo, questa è sicuramente una cosa positiva, ma non dobbiamo dimenticarci di quello che è il nostro obiettivo. L'obiettivo è 4 milioni di veicoli fluo elettriche al 2030, ovvero 400.000 veicoli fluo elettriche all'anno e nel 2020 ne abbiamo immatricolati circa 25.000, quindi siamo sotto di un ordine di grandezza e più. Anche lì ci si aspetta un forte incremento nei prossimi anni che vorrà dire anche un forte incremento delle colonie di ricarica e di nuovo quindi un impatto sulle reti esistenti. Parlavamo di implementare la produzione fotovoltaica, partiamo da questa situazione. Quindi 880.000 impianti 20,9 gigawatt installati. Se fate la divisione capite che sono tutti impianti di potenza medio-piccola. Ci sono siti all'installazione molto grandi a decine di megawatt però per lo più sono impianti che si vanno a focalizzare nella rete di distribuzione in media e bassa tensione. C'è una ripartizione diversa tra aree geografiche anche in termini di taglia media degli impianti ma tipicamente sono impianti che vanno a collocarsi nell'ambito di quella che chiamiamo generazione distribuita. sono impianti vicini agli utenti e sono impianti che soprattutto se realizzati sugli copertori edifici sono anche percepiti con un basso impatto ambientale quindi sono anche abbastanza ben visti dalla popolazione. Ricordiamoci però quello che è il nostro target al 2030 52 gigawatt complessivi ne abbiamo attualmente 21 significa che dobbiamo fare un più 150% rispetto al quanto installato attualmente. Quindi dovremmo andare a installare in maniera ottimale ma dovremmo andare a considerare anche delle installazioni subottimali che però possono comunque garantirci una buona produzione di energia elettrica. Quindi ad esempio inclinare di meno le superfici fotovoltaiche per ridurre la quantità di suolo utilizzato considerare anche le falde est-ovest considerare se questo è economicamente sostenibile anche le installazioni verticali in facciata. Queste producono ovviamente meno rispetto all'installazione ottimizzata però se si possono fare delle sinergie in ambito costruttivo queste consentono di avere un ulteriore contributo soprattutto in ambiti urbani dove la superficie orizzontale è disponibile rispetto al carico è abbastanza limitata. Ecco che allora se andiamo a considerare 8-9 metri quadri a kilowatt che sostanzialmente è un valore di occupazione di superficie orizzontale verosimile adottando una serie di accorgimenti progettuali e le migliori tecnologie vediamo che per guadagnare un punto percentuale del consumo elettrico italiano ovvero circa 3 teravattora dovemo andare a occupare circa 2200 ettari. Parlo di occupare intendendo sia tetti che eventualmente altre aree in pianta perché diversi studi già confermano che con i soli tetti non riusciremo ad aggiungere questi target. Come farlo? E qui sostanzialmente iniziamo a parlare di alcuni aspetti che riguardano direttamente il coinvolgimento degli utenti finali che secondo me è un elemento chiave per questa transizione. da un lato ci sono gli impianti di pura generazione impianti che hanno una grandissima taglia e che devono remunerarsi con il prezzo di borsa dell'energia. Dall'altro però c'è un esercito di piccoli impianti che possono trovare beneficio da un punto di vista economico andando a compensare una parte del consumo elettrico di utenza. In passato si doveva fare l'impianto all'interno dell'utenza che consumava quindi sostanzialmente a valle del contatore di scambio con la rete elettrica ma in futuro sempre di più ci potranno essere delle forme di valorizzazione della produzione diverse e che possono andare a creare delle sinergie attive ed efficaci tra chi produce e chi consuma quindi sostanzialmente le comunità energetiche i distretti energetici anche di taglia industriale e altri aspetti. Tutto questo ovviamente porta un beneficio sia al produttore che può vendere il surplus di generazione meglio rispetto a immetterlo in rete il consumatore trova un beneficio perché paga l'energia meno di quello che sarebbe la bolletta elettrica classica il sistema elettrico è buon beneficiale perché attivando queste sinergie si possono fornire servizi di regolazione della rete e aumentare la quantità di impianti che possono essere collegati a un stesso sistema. Ovviamente servirà della stabilità normativa questo è fuori di dubbio perché quando parliamo di investimenti molto lunghi nel tempo non possiamo permetterci di cambiare le regole del gioco in continuazione però dobbiamo tenere conto che il fotovoltaico nello specifico ha dei benefici significativi dal punto di vista di impatto ambientale quindi non ha emissioni inquinanti non ha emissioni di rumore non ha altre interferenze significative se non un'occupazione del suolo questa non è colpa tanto della tecnologia è colpa del fatto che il flusso luminoso ha una densità di potenza di 1000 watt su metro quadro ci mettiamo poi il rendimento di conversione che è ancora relativamente basso quindi capite bene che le superfici necessarie sono significative un altro driver ovviamente è l'evoluzione tecnologica e qui il ruolo anche degli ingegneri e di chi si occuperà della ricerca nei prossimi anni sicuramente ci sono delle tecnologie mature nel mercato però si sta comunque continuando a cercare di migliorarle sia nella direzione di migliorare il rendimento quindi ridurre le superfici di chiesta e parità di potenza ma anche per contenere i costi quindi rendere queste tecnologie ancora più appetibili e consentire delle installazioni anche subottimizzate ci saranno poi nuove tecnologie che si affaceranno sul mercato e andranno a integrare quelle che attualmente sono le più diffuse che sono basate sul silicio cristallino ecco una domanda che è lecito farsi è se questo sviluppo di fonte rinnovabili è effettivamente possibile perché noi stiamo disegnando un scenario un obiettivo raggiungibile oppure no allora per rispondere a questa domanda ho poi usato ad esempio dei dati che sono i dati del triennio 2015-2017 relativi a Cina Stati Uniti India Brasile Giappone e comunità europea questo grafico vi riporta quella che è la potenza fotovoltaica installata in quei tre anni in particolar modo ci focalizziamo sul Giappone il Giappone è grande poco più dell'Italia dal punto di vista di chilometri quadrati queste due rappresentazioni hanno la stessa scala geografica in più è diviso in termini di sistema elettrico in due sottoretti una 50 e una 60 Hz con collegamenti trasversali tra le due sottoretti ma ovviamente sono due subare non sincroni tra loro inoltre ha circa il doppio della popolazione italiana questo ovviamente impatta in termini di interferenza sociale di spazi liberi e quant'altro tuttavia nonostante abbia una disponibilità solare che è allineata a quella del nord Italia nel 2015-2017 ha installato più fotovoltaico di tutte le luoghe messe assieme addirittura se estendiamo l'analisi al quinquennio 2014-2018 ha installato 42,7 gigawatt che è più del doppio di quanto l'Italia ha installato dal 2007 al 2019 voi direte perché è una conseguenza se volete indiretta di quello che è successo nel 2011 in Giappone quindi una diversa sensibilità rispetto al tema nucleare che ha spinto una fortissima diffusione del fotovoltaico tuttavia questo non ha comportato di blackout continui in Giappone perché hanno adottato una serie di soluzioni che ha consentito l'integrazione di quasi tanta produzione fotovoltaica all'interno di un sistema che assomiglia molto se volete a quello italiano anche per la forma allungata dello Stato che quindi rende in qualche maniera più debole il sistema reattivo nel suo complesso da un punto di vista giusto per darvi qualche numero diciamo allo Stato di diffusione in Italia qui è un grafico di Terna che ci indica sostanzialmente come nel 2008 2018 abbiamo avuto più 26 gigawatt di potenza installata tra fotovoltaico e eolico e questo ha comportato una copertura da fonti rinnovabili che in alcuni casi è arrivata molto vicino al 100% ad esempio il 21 maggio del 2017 alle 3 del pomeriggio l'89% della domanda elettrica era coperta da fonti rinnovabili compreso qui anche l'idroelettrico su base giornaliera il 63% su base mensile il maggio 2017 è stato coperto da 39% tuttavia avere anche solo un'ora che è coperta all'89% da fonti rinnovabili significa che la generazione termoelettrica in qualche maniera è penalizzata e questo lo troviamo anche in termini di riduzione della capacità installata termoelettrica come vedete è scesa progressivamente negli anni questo anche perché avere una generazione termoelettrica che diventa sempre meno conveniente disincentiva ad investire in quel settore con la conseguenza che si va a ridurre la riserva alla punta ovvero la capacità di fronteggiare delle variazioni brusche di generazione o carico all'interno del sistema variazioni brusche che potrebbero essere causate anche dalle fonti rinnovabili stesse perché se pensiamo a un'area che ha una grossa produzione fotovoltaica soggetta a un passaggio nuvoloso imprevisto o magari previsto nell'ora sbagliata capite bene che abbiamo comunque bisogno di riserve per regolare il sistema elettrico e garantire la contemporaneità tra generazione e carico altro aspetto molto importante è la regolazione della frequenza e la stabilità del sistema perché il sistema elettrico deve avere una corrispondenza tra quanto viene generato e quanto viene consumato o meno delle perdite se c'è un aumento del carico c'è un rallentamento della velocità di rotazione o un caldo di frequenza e viceversa se c'è una perdita di carico più andiamo a introdurre fonti o innovabili e più stanzialmente soprattutto se queste ovviamente sono non sincrone come ad esempio il fotovoltaico che è interfacciato tramite un inverter più andiamo ad aumentare queste perturbazioni di frequenza e renderle più veloce con l'effetto che possiamo innescare anche degli scatti intempestivi di protezione e dei blackout le soluzioni sono anche qui di diverso tipologia si va dal estendere interconnetto del sistema quindi qualcosa che riguarda la rete di trasmissione fino a andare a emulare il comportamento di un generatore sincrono durante una perturbazione di rete e questo lo possiamo fare anche a livello di micro generazione quindi l'impianto di generazione di piccola taglia o il sistema di storage di piccola taglia o la colonia di ricarica che in quel momento sta ricaricando l'auto elettrica che può fornire un servizio di stabilità al sistema andando a emulare quello che è il comportamento inerziale di un generatore lo tanto e tradizionale parliamo di generazione distribuita qui vi riporto un caso studio anche qui fornito da Terna che ci fa diciamo che ci illustra in maniera molto chiara quello che è l'impatto della generazione distribuita sulla gestione delle reti qui vedete sono tre profili sono i profili di potenza di una cabina primaria quindi di un punto di trasformazione alta media tensione in tre giorni di agosto 2010 2011 e 2012 dal 2010 al 2012 si è installata una quantità molto grande di fotovoltaico passiamo da un profilo puramente passivo che è quello qua su in alto a un profilo con riduzione del carico durante il giorno a un profilo che è quello più in basso fortemente invertito durante il giorno ovvero questa cabina primaria durante il giorno manda una grossa quantità di potenza verso la rete di trasmissione quindi sostanzialmente questa cabina primaria equivale da un punto di vista equivalente a un generatore fotovoltaico questo è un cambio completo di paradigma rispetto al passato perché in passato la trasmissione forniva potenza alla media tensione la media tensione forniva potenza alla bassa tensione la bassa tensione distribuiva fino all'utente e la signora Maria di turno in questo caso cambia completamente la distribuzione dei flussi di potenza e vedete anche qui delle diverse perturbazioni legate a dei passaggi nuvolosi nell'area studiata come possiamo andare quindi a gestire un approccio di questo tipo dove abbiamo tanti impianti collegati alle reti di distribuzione di media e bassa tensione attraverso una gestione ottimizzata e coordinata di quelle che sono le risorse nelle reti quindi sostanzialmente avere e poter rappresentare la distribuzione come un soggetto equivalente che ha un ruolo attivo di regolazione verso l'alta tensione e per fare questo dobbiamo identificare cosa fare ovvero sviluppare dei controlli intelligenti dei distribution management system in grado di gestire sia la rete di media tensione che la rete di bassa tensione dobbiamo identificare chi fa e chi applica questi questi controlli ovvero sostanzialmente avere tecnologie evolute tipicamente posate su inverter in grado di rispondere efficacemente a quelle che sono le richieste della rete stessa c'è un tema di comunicazioni perché devo misurare come sta funzionando la rete e devo andare a pilotare i dispositivi in modo tale da implementare quello che i controllori hanno identificato e c'è anche un tema non secondare di come lo pago perché fornire questi servizi di regolazione non possono essere dei servizi obbligatori ma si possono installare una serie di mercati locali che possono andare a coinvolgere gli utenti finali in modo tale che il distributore anziché potenziare le linee va a acquisire dei servizi di flessibilità e riesce a garantire la stabilità del sistema e la rispondenza ai criteri di corretto esercizio senza dover necessariamente andare a mettere giù ferro e rame ovvero cambiare trasformatori cambiare linee e quant'altro ecco questi quattro punti se vogliamo racchiudono un po' il concetto di smart grid quindi coinvolgere attraverso le tecnologie evolute e interconnesse dei dispositivi in grado di applicare le regole definite dai controlli intelligenti in un'ottica di mercato locale ho cercato di definirle in una fase solo un concetto che ovviamente capite bene è molto vasto se vogliamo fare un esploso del concetto di smart grid qui ho cercato in maniera abbastanza schematica di fotografare le caratteristiche di una rete attuale e poi vedremo quelle che sono le caratteristiche corrispondenti di una smart grid allora la rete attuale è tipicamente una distribuzione ad albero da un trasformatore andiamo verso la periferia tipicamente un flusso di potenza monodirezionale che quindi va ad alimentare i carichi che nell'impostazione passiva scusate nell'impostazione classica erano puramente passivi questo ha comportato una serie di soluzioni ad hoc sia per l'interconnessione delle utenze sia per il potenziamento del sistema elettrico ci sono diversi standard sia per i dispositivi di potenza che soprattutto in ambito di telecomunicazioni ci sono pochissime comunicazioni che attualmente viaggiano pensate ad esempio ad oggi c'è solo il contatore che fa delle misure ogni tot e le comunica a un accentratore con scopo di tarifazione già stiamo facendo qualcosa con i contattori di seconda generazione ma la tecnologia va ancora implementata per riportarla a regime ci sono sistemi parzialmente analogici il monitoraggio del sistema è abbastanza limitato perché ci si basa ancora su un comportamento tendenzialmente passivo del sistema il controllo è assolutamente centralizzato è il distributore che fa il controllo andando banalmente a cambiare la topologia della rete piuttosto che agire sul variatore sottocarico ci sono pochissimi estemi di accumulo tipicamente sono legati a poche iniziative private la manutenzione e la sostituzione di componenti è a tempo anziché su manutenzione predittiva o basata sul monitoraggio di parametri e questo può comportare anche una ripresa del servizio lunga in termini di tempi perché è effettuata su base manuale ci sono utenti che sono molto poco coinvolti nel mercato perché sostanzialmente l'utente finale all'unico modo di interfacciamento è la bolletta e il trader che gli fa un'offerta non può avere un comportamento attivo che va a influenzare quelle che sono le dinamiche del mercato in relazione a quello che può essere appunto un mercato locale per garantire il servizio stabile del sistema di base quindi sono utenti che sono o passivi o con generazione differenzia questo concetto rispetto invece all'utente attivo l'utente attivo è quello che si monitora e ha un comportamento attivo verso la rete quindi è un utente che è in grado di dialogare con la rete e fornire dei servizi di regolazione ecco questa logica che banalmente è basata in questo schema in basso a sinistra di tipo radiale da sinistra a destra esattamente quello che viene messo in discussione in un approccio di tipo smart grid dove tutto è molto più orizzontale tutto è molto più interconnesso tutto è molto più magliato e esercito in maniera coordinata quindi dove si andrà a tendere ovviamente non l'immediato per tutti questi punti ma con tempi diversi da soluzioni ad hoc per l'allacciamento delle utenze all'allacciamento tipo plug and play tipo usb per intendersi da standard differenziati standard comuni da comunicazioni rare e in un solo verso a comunicazione molto diffuse e bidirezionali in modo tale che l'utente possa dialogare sia con la rete per fornire servizi di regolazione sia con gli altri utenti per poter scambiarsi dell'energia i sistemi diventeranno sempre più in ambito digitale sempre più integrato sempre più con interfacciamento con l'internet of thing sostanzialmente la parte di monitoraggio è ovviamente molto più sviluppata perché avendo un sistema così flessibile dobbiamo essere in grado di garantire una condizione di funzionamento stabile in tutte le possibili condizioni di funzionamento si prevede un forte sviluppo dei sistemi di accumulo e questo sostanzialmente anche includendo tra i sistemi di accumulo i veicoli in fase di ricarica ci saranno tutta una serie di mercati pienamente sviluppati a livello locale con un coinvolgimento spinto dagli utenti finali in modo tale che siano anche gli utenti che fanno parte del mercato più l'utente è coinvolto e più questo può essere un driver per lo sviluppo di questa tecnologia vado un attimo a concludere il mio intervento con alcune considerazioni figli un po' di quello che abbiamo visto in questi minuti allora sicuramente la strada è segnata questo è fuori dubbio ce ne stiamo rendendo conto forse le persone più anziane fanno più fatica a entrare in questo meccanismo ma vedo che sempre più le persone giovani sono entrate a capire che la transizione è necessaria io lo vedo ad esempio nei miei figli che hanno una percezione completamente diversa rispetto a quella che ho io rispetto a quella che hanno i miei genitori è ovvio che dobbiamo avere il coraggio di percorrere per primi questa strada che è stata segnata e non mandare avanti altri perché altrimenti perdiamo qualsiasi vantaggio competitivo il fumetto non ve lo commento ma avete già capito a cosa fa riferimento altro aspetto molto importante l'orezone temporale abbiamo parlato degli obiettivi del 2030 ma il 2030 ci sembra lontanissimo perché è fra dieci anni ma in realtà il 2030 non è domani forse è stasera e sperando che non sia già ieri perché ci sono tutta una serie di dinamiche che richiedono del tempo ad esempio l'installazione di un pianto eolico richiede un tempo di sviluppo per l'indagine anemometrica un tempo di progettazione un tempo di realizzazione la costruzione e se io parto oggi per sviluppare un sito eolico probabilmente ce l'avevo costruito fa 4 anni quindi se voglio aggiungere dei target al 2030 non posso partire nel 2029 devo partire per tempo anche perché l'utilizzo delle fonti rinnovabili solare e fotovoltaico ed eolico che sono stati identificati per lo meno in ambito italiano mi comporta una destinazione di risorse di terreno legate alla bassa potenza specifica di questi impianti e questo coinvolge la popolazione coinvolge l'opinione pubblica e in particolar modo implica quella che è la famosa syndrome not in my backyard ovvero sostanzialmente va bene tutto basta che non sia vicino a me e che io non lo veda la domanda che mi faccio è è davvero mio il cortile o è un cortile di tutti perché se io devo difendere il mio cortile perché lo è tutto mio e solo mio è un discorso ma dobbiamo anche qui valicare questo confine e pensare che se io non faccio una transizione energetica probabilmente il cortile non ce l'avrò più quindi non è che se impedisco la transizione allora tutelo il mio cortile forse è il modo migliore per distruggerlo altro aspetto importante che su cui faccio un breve accenno è il ruolo che devono avere le amministrazioni e gli enti locali attualmente si parla di dove non si possa fare gli interventi non si possono fare dove c'è un bacino dove c'è una riserva naturalistica dove ci sono delle aree vincolate culturali eccetera eccetera secondo me bisogna passare a dire dove si può fare perché questo sostanzialmente ridurrebbe di molto il tasso di mortalità degli investimenti infine un altro aspetto molto importante che riguarda se volete un aspetto a cavallo tra il tecnico e il sociale e il comportamentale è avere una mentalità aperta verso nuove tecnologie un esempio su tutti è il tema dell'autonomia dell'auto elettrica tutti guardiamo con l'autonomia dell'auto elettrica diciamo 300 km diciamo che è pochissimo perché non riesco neanche andare a Milano e tornare a casa però in realtà andiamo ad analizzare statisticamente quello che è l'utilizzo dell'auto tipico e un utente medio fa 30, 40, 50 km al giorno quindi probabilmente l'auto elettrica non andrà bene per il rappresentante che tutti i giorni parte da Treviso e va a Crotone però per la grande maggior parte delle persone l'autonomia non è un vero limite se non una barriera diciamo emozionale diciamo percezionale poi ci sono gli aspetti correlati perché una persona dice non compro l'auto elettrica perché non ho le colonie di ricarica chi sviluppa le colonie di ricarica dice non installo le colonie di ricarica perché nessuno ha l'auto elettrica e quindi nessuno rischio a vendere i servizi anche qui bisogna cercare di superare questo limite in modo tale che effettivamente ci sia uno sviluppo sinergico delle varie tecnologie ovviamente bisogna correre e questo è un elemento molto importante l'ho lasciato alla fine anziché dirlo all'inizio tutto questo non lo stiamo facendo per evitare che ci siano dei danni lo stiamo facendo per limitare i danni che stiamo già facendo quindi stiamo parlando di limitare il suo riscaldamento globale stiamo parlando di azzerare il suo riscaldamento globale più aspettiamo e meno gli obiettivi riusciamo a raggiungerli con questo io mi fermo spero di avervi lasciato qualche rappresentazione qualche ordine di grandezza su cui riflettere ma avervi lasciato anche tanti punti di domanda e questi punti di domanda un po' come mi sono venuti in mente in maniera casuale li ho messi in una lavagna e questi diciamo questi post-it li possiamo usare tranquillamente anche se volete come base di discussione premetto che non ho le risposte a queste domande quindi è assolutamente opportuno interessante usare questi punti di domanda che non sono ovviamente esaustivi sono solo alcuni per aprire una discussione e iniziare a confrontarsi dal confronto nascono le soluzioni bene ringrazio il professor bignucolo vedo che al momento non ci sono domande quindi ne faccio uno io sì ho io una domanda prego scusa vai avanti tu dopo dai la parola a me va bene comincio comunque io poi lascio la parola al signor bombi intanto volevo chiedere se sarà è stato recentemente cambiato relativamente recentemente il il contatore di casa questo processo dovrà essere rifatto si prevede di rifarlo c'è ricerca riguardo comunque dei programmi per garantire appunto una maggiore integrazione tra rete di bassa e rete di trasmissione oppure quello che c'è già quello che c'è installato è in grado di fornire le informazioni desiderate e necessarie allora diciamo che più o meno a quindicina d'anni fa è stato installato il primo contatore che veniva chiamato elettronico per intendersi quello che non aveva più il disco che ruotava ma aveva sostanzialmente una misurazione elettronica in quel caso il vantaggio principale era quello di agevolare la lettura tramite una telelettura onde convogliate in modo tale da evitare che ci fosse la persona che doveva andare a uscire a leggere il contatore in maniera fisica quindi quello ha consentito un forte vantaggio in termini di riduzione degli oneri di personale per i distributori non aveva un grandissimo contributo da un punto di vista di regolazione della rete perché comunque forniva la misura una volta al mese a consultivo quindi da un punto di vista di real time assolutamente sostanzialmente nullo poteva essere utilizzato per fare dell'analisi consultivo quello sì i contattori invece che sono in fase di installazione in questo periodo intendersi è un'installazione che è iniziata due o tre anni fa è un'installazione di un dispositivo completamente diverso che innanzitutto era necessario perché il primo contattore aveva un tempo di vita limitato e quindi necessariamente doveva essere sostituito allora anziché sostituirlo con lo stesso modello è sostituito con un modello più evoluto che fa un monitoraggio più frequente dei parametri che può essere in grado di trasmettere questi parametri al distributore ma molto importante collegato a quello che dicevo prima di coinvolgimento delle utenze nel comportamento nella operazione della rete deve essere in grado di fornire queste misure anche all'utente in modo tale che l'utente sia reso edotto di quello che sta facendo da un punto di vista di comportamento elettrico e quindi potrebbe ad esempio non so faccio l'esempio banalissimo vedo che in questo momento sto esportando della potenza perché il mio fotovoltaico sta producendo in più di quello che sta consumando attacco la lavatrice ovviamente la signora Maria lo farà manualmente sempre di più ci saranno dei sistemi che in automatico faranno questo ad esempio che in automatico gestiranno la pompa di calore esportando l'inerzia termica agli edifici per andare a consumare quello che sto producendo in quel momento ed evitare di consumare in un momento quando non avrò diciamo la risorsa di generazione in quel momento disponibile ho capito ma entro quando sarà finita l'installazione e entro quando è prevista la fine dell'installazione di questi dispositivi questo non lo so dire nel dettaglio so che alcuni distributori quindi tipicamente più piccoli quindi su base sostanzialmente cittadina alcuni devono ancora iniziare la campagna e distribuzione è stata tra i primi a installare queste nuove macchine anche perché è stata tra i primi a installare quelli di prima generazione quindi non so sinceramente quali siano le tempistiche però diciamo che stanno andando avanti abbastanza scrombattuto ecco soprattutto la distribuzione va bene la ringrazio questo non mi lascia sperare bene se non altro ok lascio la parola al signor Bombi se vuole fare la sua domanda prego sono un vecchio professore sono un collega di Fabio allora non hai parlato in nessun modo del nucleare adesso si parla di sostituire le attuali centrali con centrali molto più sicure e quindi potrebbe essere una soluzione che garantisce il passaggio a produzione di energia senza produzione di CO2 in tempi relativamente brevi la seconda domanda è questa non hai parlato io ho visto che nel trasporto commerciale stanno diffondendo veicoli che invece di consumare diesel consumano metano liquefatto metano congelato a bassa temperatura e questi ovviamente hanno un minore impatto dal punto di vista CO2 e potrebbe essere un'altra soluzione che allontana la necessità di fare ricorso a soli veicoli elettrici e il terzo commento invece io sono vissuto in Inghilterra molti anni fa nel secolo scorso e in Inghilterra nel 70 avevano avuto una perdita di funzionamento della rete elettrica per cui avevano rischiato di non essere in grado di riavviare gli impianti perché c'erano stati blackout molto importanti allora avevano messo in campo delle degli impianti in cui usavano un motore una turbina d'aereo per avviare una centrale di modesta potenza di 30 megawatt in un tempo di pochi secondi allora questa tecnologia forse potrebbe essere rivista rinascere come meccanismo di emergenza assoluta in caso di blackout di sistemi fotovoltaici perché sono centrali elettriche che possono essere avviate in tempi dell'ordine della frazione di minuto e di potenza considerevole e che il fatto che sono altamente inquinanti sarebbe rilevante perché verrebbero avviati solo in caso di reale emergenza e allora cerco di rispondere più o meno in ordine allora non ho parlato del nucleare perché mi sono focalizzato soprattutto su questa decade e quindi sostanzialmente considerando che dovrebbero ripassare per un'approvazione sociale dei tempi di costruzione potrebbe essere una soluzione di medio termine non di breve termine l'ho messo nel quesito 4 di questa slide quindi dicevo proprio il nucleare è quasi carbon free lo consideriamo appunto di domanda l'ho perso l'ho perso il quesito 4 quindi senza volerlo diciamo l'avevo in qualche maniera messo come argomento di discussione anche nei dati della Francia non ho visto almeno fatta vedere all'inizio il diagramma ma in Francia ancora il nucleare è una percentuale dell'energia prodotta quindi è uno dei motivi per cui loro da un punto di vista di CO2 sono molto migliori di noi nel senso che effettivamente producono molto tramite il nucleare e sulla terza domanda sì potrebbe essere una delle tecnologie diciamo da considerare in realtà ce ne sono anche diverse altre nel senso che noi in Italia abbiamo anche molto idroelettrico a bacino che si può avviare in maniera abbastanza abbastanza rapida e che attualmente è abbastanza sottutilizzato e sono tutte tecnologie che in qualche maniera possono di moda l'impianto del brasimone non c'era una coppia di laghi al brasimone che si pompavano l'acqua quando aveva un'energia e poi la utilizzavano quando correva un picco di questo è un impianto molto vecchio non so se è ancora funzionante beh sì ci sono questi impianti anzi si sta anche pensando di costruire di nuovi di sistemi a pompaggio appunto perché hanno un rendimento che non è malvagio hanno un funzionamento piuttosto stabile si sta parlando anche di fare sistemi di accumulo a pompaggio con acqua salina addirittura con acqua al mare quindi uno in Sardegna in particolar modo confesso mi sono perso la seconda domanda l'uso del l'uso del metano liquidato che potrebbe rendere meno soprattutto di veicoli di grande potenza l'uso di impianti elettrici di veicoli elettrici sì sì beh allora anche questa è una tecnologia come l'uso dei biocombustibili si sta muovendo qualcosa e si sta muovendo qualcosa anche in ambiti che hanno un forte impatto emotivo e sociale parlo ad esempio della competizione automobilistica quindi già il fatto che ci sia dell'attenzione verso il contenimento dei consumi e nel prossimo futuro verso l'utilizzo dei biocombustibili è qualcosa che sposta gli equilibri questo citato non è un biocombustibile ha un impatto più basso se vogliamo ma un impatto comunque abbastanza non trascurabile per intendersi secondo me anche l'integrazione tra combustibili fossi e biocombustibili è una delle cose di cui si può sicuramente lavorare giusto per citarne una mi sembra che la formula 1 dal 2023 forse 24 debba utilizzare biocombustibili è già quello insomma ha un impatto da un punto di vista numerico assolutamente nullo ma da un punto di vista emotivo verso l'opinione pubblica significativo scusa ho un'altra domanda poi sto zitto perché sono io sono nato tecnicamente all'epoca della nascita di internet uno degli elementi che è una cosa nata nel 70 quindi per voi più giovani è una cosa ormai nella preistoria uno dei motivi per cui ha avuto successo è che le norme e il modo con cui era realizzata venivano discusse in maniera trasparente fra gli utenti il meccanismo degli RFC e quindi la adesione ai modi di funzionare della rete erano automatici non so se sia possibile anche dal punto di vista di una rete energetica sia possibile ma cercare di copiare i meccanismi che sono stati vincenti per il coinvolgimento dell'utenza nelle primordine parlo degli anni 70 80 primordi dell'internet gli utenti erano coinvolti direttamente nella definizione delle soluzioni tecniche e questo ha creato delle cose che non si sarebbero state possibili se si fosse usato il criterio che c'è un legislatore che stabilisce come si fanno le cose forse si potrebbe dico per te che sei molto più giovane quindi magari questo meccanismo degli RFC non l'hai studiato non l'hai visto vedere di copiare il modo con cui il sviluppo di internet è stato diffuso fra gli utenti per il fatto che gli utenti erano coinvolti nella definizione delle strategie cercare di studiare questa cosa per vedere se può essere anche copiata in qualche modo in qualche dettaglio nella definizione di come è fatta una smart trade in cui io ho a casa una batteria ho le celle fotovoltaiche sul tetto e magari ho nel retro della casa anche una turbina un aeromotore sì diciamo prima l'ho accennato un po' questa cosa cioè l'orizzontalizzare se vogliamo la gestione della rete il coinvolgimento dell'utenza la possibilità di sharing di energia tra vari utenti delle soluzioni plug and play e quant'altro vanno un po' verso questi concetti di internet è ovvio che c'è una barriera da un lato tecnologico da un lato di ruoli di chi ha finora gestito la rete e che ovviamente attualmente ha la responsabilità dell'esercizio stabile della rete e quindi dice sì io devo garantire l'esercizio stabile non posso consentire di fare quello che vuole a ciascuno però si supererà questa barriera secondo me e anche da un punto di vista di sviluppo di soluzioni controlli nuovi e quant'altro si sta sviluppando tutta una serie di risorse e librerie elettroniche basate su open access e condivisione tra gruppi di pari quindi mentre in passato si sviluppavano dei controllori molto chiusi in linguaggio di programmazione dedicato e quant'altro adesso c'è tutto un filone di ricerca su cui siamo attivi anche noi ad esempio sull'utilizzo del Python di strumenti open access dove una community concorre a definire delle funzioni piuttosto che delle feature nuove e quindi diciamo in qualche maniera favorire lo sviluppo sinergico dei concetti delle soluzioni dei controlli e quant'altro quindi in qualche maniera si va verso l'internet of energy è ovvio che qui abbiamo degli ordini di grandezza diversi e quindi questo rallenta un po' il processo grazie sto zitto adesso perché ci sono tanti altri ok allora ringrazio il professor Bombi per il suo intervento e passiamo ad Alessandro se vuoi prendere parola se no leggo io la domanda bene allora la leggo io la prima domanda di Alessandro è a quale livello di penetrazione fotovoltaica ha senso cominciare ad introdurre le strette energetiche in ambito urbano per esempio ma l'esempio di una città come Padova che ha circa 25.000 impianti installati per un totale di 360 megawatt picco allora diciamo che in ambito prettamente urbano e abbiamo anche dei numeri reali su altre realtà il tema della generazione è ancora fortemente minoritario rispetto al carico quindi soprattutto quando si parla di bassa tensione la quantità di generazione tipicamente fotovoltaica è molto piccola rispetto alla quantità del carico questo è legato al fatto anche che abbiamo poca superficie dove mettere i pannelli rispetto all'elevato consumo pensiamo ad esempio un condominio noi consumiamo su tutti i piani non possiamo mettere i pannelli solo nel tetto perché ragionevolmente non è ancora conveniente metterli in facciata un discorso un po' diverso ce l'abbiamo se allarghiamo la cosa alla media tensione dove possiamo iniziare ad avere già dei capannoni quindi impianti fotovoltaici più grandi e quant'altro secondo me il concetto di stretto energetico andrebbe applicato da subito appena io posso avere un utente che per qualche motivo immette potenze in rete ecco che sarebbe opportuno trovargli un altro utente nelle prossimità che possa andare a consumare da un punto di vista commerciale quella sul plus di potenza quindi trovare un beneficio nei due utenti che si vadano in qualche maniera a gemellare e accordare tipicamente l'industria che durante il sabato e domenica è chiusa potrebbe tranquillamente cedere la sua energia al centro commerciale che magari sabato e domenica ha il suo picco di carico per fare un esempio proprio direttamente applicabile quindi secondo me non c'è un limite sotto il quale non ha senso parlare di è un concetto che si può estendere già da impianti molto piccoli con l'auspicio che riguarda impianti sempre più numerose penso sia chiaro se in caso se Alessandro vuole intervenire può fare supplementi alla sua alla sua domanda poi chiede all'atto pratico la realizzazione dei distretti energetici vede più ostacoli di tipo tecnico impiantistico o di tipo normativo legislativo commerciale allora consideriamo che da un punto di vista tecnico la tecnica non vede i contratti quindi se io immetto della potenza in rete questa potenza andrà a essere consumata da un utente vicino quindi il rapporto di chi vende e chi compra e un rapporto commerciale che non è correlato con l'ambito tecnico sicuramente l'ostacolo principale attualmente è a livello di normativo tariffario economico ruoli in gioco e quant'altro dal punto di vista tecnico sicuramente è molto più maturo diciamo quindi la soluzione è molto più pronta però si sta lavorando nel senso che già l'anno scorso sono diciamo iniziati a svilupparsi i primi distretti energetici reali e già adesso si iniziano a vedere risultati di un anno di monitoraggio di questi distretti che possono riguardare il semplice condominio per intendersi che si mette il fotovoltaico a supporto della pompa di calore condominiale e il surplus lo cede agli utenti dello stesso condominio piuttosto che distretti un po' più grandi in ambito industriale dove possiamo avere una co-gestione sia dell'energia elettrica che del calore perché magari in un ambito industriale ci possono essere dei co-generatori e di conseguenza c'è sia l'interesse per condividere il calore di processo sia la parte di generazione elettrica molto bene penso sia stato esaustivo poi vorrei dare la parola a Riccardo Arnegin se vuole mettersi in mostra buonasera a tutti volevo chiedere una cosa riguardante il ruolo che potrà avere l'idroelettrico anche se in parte ha penso già risposto a questa domanda nel senso ad esempio gli impianti di pompaggio potranno affiancare i sistemi di storage ad esempio delle batterie e il ruolo dell'idroelettrico potrà essere migliore ad esempio sviluppando piccoli impianti idroelettrici rispetto a grandi impianti allora divido in due la domanda nel senso che sistemi di pompaggio rispetto agli accumuli elettrochimici si posizionano in un'area completamente diversa nel senso che l'impianto elettrochimico è un impianto che tipicamente ha un tempo di carica e scarica che è nell'ora delle ore posso avere l'elettrochimico veloce che si scarica nel quarto d'ora posso avere l'elettrochimico più lento che ha un tempo di carica e scarica di 8-10 ore poi diciamo stiamo parlando di accumulo giornaliero se vogliamo l'impianto di pompaggio l'impianto di pompaggio invece è un accumulo del tipo stagionale ecco che allora il concorrente se vogliamo del sistema idroelettrico a pompaggio potrebbe essere la generazione verde di idrogeno che in quel caso anziché accumulare acqua a una quota più alta vado a accumulare dell'idrogeno in un serbatoio per poi riprocessarlo in cella combustibile e riprodurre energia elettrica quindi mentre diciamo gli storage tipo elettrochimico li vedo più per un funzionamento tra l'olette rapido quindi nell'arco delle ore altre tecnologie basate sul pompaggio basate su sull'idrogeno e quant'altro li vedo più invece su base stagionale quindi sono complementari non uno esclude l'altro sulla parte dell'idroelettrico in Italia abbiamo fatto molto negli anni perché abbiamo elettrificato il paese con l'idroelettrico a partire già da più di un secolo fa e ci sono dei treni aperti come ad esempio la concessione dei flussi d'acqua e ovviamente questo va a limitare quello che è lo sviluppo del nuovo idroelettrico ovvero sostanzialmente dei rifacimenti significativi di centrali esistenti che potrebbero anche aumentare la potenza complessivamente installata e quindi la produzione degli impianti a questo si aggiunge anche un interesse verso impianti di taglia medio-piccola perché ovviamente hanno un bassissimo impatto ambientale e possono essere integrati molto bene sul territorio quelli di taglia medio-piccola si vanno sostanzialmente a posizionare nell'ambito della generazione distribuita quindi media-bassa tensione mentre tutto il tema dei rifacimenti delle grandi centrali che però richiede un orizzonte temporale lungo quindi un orizzonte temporale di almeno 20 anni per ripagarsi questi rifacimenti significativi vanno invece a collocarsi nell'ambito del grande medio-elettrico e di conseguenza delle vetri di trasmissione chiaro grazie grazie a lei della domanda bene se Leonardo Magliani vuole prendere parola parola ok allora procedo io Leonardo chiede perché si pone molta più enfasi su fotovoltaico che sull'eolico allora dobbiamo considerare le caratteristiche di queste due fonti primarie nel senso che l'eolico perlomeno nel territorio italiano è una fonte che non è distribuita uniformemente quindi non avrebbe molto senso parlare di sviluppare tantissimi impianti eolici in area come la Chiodura Padana dove la disponibilità primaria è abbastanza scarsa dobbiamo andare a posizionare gli impianti in aree insulari o peninsulari diciamo spinte quindi Calabria Sicilia e Sardegna su crinari montani come ad esempio la dorsale appenninica oppure su alcune aree come può essere la zona di Affi dove è stato fatto un impianto teorico abbastanza noto che però hanno delle caratteristiche abbastanza peculiari per garantire una certa producibilità oggigiorno se un impianto non è in grado di produrre almeno 2000 ore equivalenti 2200 ore equivalenti non ha senso costruirlo e di conseguenza si può andare a cercare solo siti che sono effettivamente con una disponibilità eolica significativa il fotovoltaico è molto più democratico quindi la differenza tra nord e sud in termini di producibilità è assolutamente certa ma non è così ampia quindi mentre un impianto ben costruito al nord può produrre 1100 ore equivalenti al sud può produrre 1500 però non c'è un rapporto così elevato come c'è per la fonte eolica tra la Sardegna e il Friuli ad esempio poi se posso permettermi aggiungerei anche che molto spesso l'opinione pubblica è molto più contaria all'eolico almeno dalla mia esperienza rispetto al fotovoltaico sì assolutamente visto che mi si parla davanti vi ricordo anche che in chat c'è il link per il nostro sondaggio di gradimento degli eventi che sì ci potrebbe essere molto utile per migliorare la qualità di quello che facciamo passiamo alla domanda di Giovanni Ferrara che è l'ottava persona con questo nome tra l'altro che si è iscritta all'Unipd e se vuole prendere parola sì buongiorno sono io sì ho chiesto ho chiesto un'opinione per quanto riguarda le bioenergie in particolare se secondo il relatore possono avere uno spazio nel futuro in particolare per quanto riguarda la compensazione dei cali nei momenti di calo del fotovoltaico e dell'eolico essendo una fonte gestibile insomma e eventualmente come come produzione di biocarburati perché a differenza dell'eolico e dell'elettrico per la produzione di energia motrice non si deve fare un doppio passaggio sull'elettrico e poi sull'energia motrice grazie sui biocombustibili assolutamente sì come lo citavo brevemente quando parlavo degli obiettivi dell'ambito trasporti quindi il raggiungimento del 22% di consumi finali nel settore trasporti da innovabili lo si ottiene anche con combustibili con biocombustibili oltre che con la trazione elettrica quindi questo assolutamente va valutato però molto accuratamente quello che può essere un business plan di questo tipo di impianti e quello che può essere anche l'impatto sul territorio in termini di tipologia di prodotti primari utilizzati e quant'altro ad esempio in passato si puntava tantissimo per alcuni anni sugli oli per la produzione di energia elettrica è stata fatta anche una grossa centrale qui nel sud della provincia di Padova che poi per una serie di motivi hanno aumentato il loro costo in maniera significativa e questa centrale non è mai stata fatta funzionare perché una volta fatta costruire la materia prima costava troppo per avere una convenienza economica quindi è vero che è una fonte primaria però ha alcuni aspetti anche da un punto di vista economico legati all'approvvigionamento della fonte che vanno un attimo curati perché mentre il sole e il fotovoltaico sono effettivamente gratis in questo caso abbiamo un costo della materia prima che può avere un impatto in termini di convenienza economica però può esserci spazio anche per questa tecnologia come distretti di calore per la produzione di calore questo è assolutamente sì quindi per il riscaldamento non siamo noi a inventarlo insomma in altri contesti penso ad esempio al nord Europa è qualcosa di assolutamente diffuso se si va ad esempio in Austria hanno un concetto esattamente opposto rispetto al nostro sulla gestione degli impianti termici che se voi andate nei paesi austriaci avete il centrale diciamo il boiler nella zona centrale del paese è una distribuzione a stella per servire le utenze noi invece metteremo il generatore di calore in periferia dove ci dà poco fastidio e portiamo dentro il calore è una diversa percezione rispetto a questa tecnologia sicuramente i sistemi di teleriscaldamento sono interessanti sia ad alta che a bassa temperatura e concorrono all'aggiungimento di questi target anche perché ben si prestano a essere abbinati con la pompa di calore grazie molto bene se posso dire la mia vorrei farti anche pensare Giovanni che anche al trasporto della materia prima per gli impianti a biomassa diciamo perché se avviene su gomma va considerato anche che c'è quella componente di inquinamento grazie sì facciamo proprio quell'aspetto noi nel nostro nel nostro gruppo di ricerca la logistica della della raccolta e del e del del trasporto delle delle masse sì sì sono d'accordissimo con te grazie ok siamo giunti a Cristian Turbian se vuoi prendere parola sì grazie buongiorno professore volevo capire un attimo in che modo sarebbero diversi in caso di smart grid in che modo sarebbe diversa la partecipazione degli utenti finali che si dice sarebbe molto più attiva nel mercato libero dell'energia cioè rispetto a quella che è l'attuale perché da quello che ho capito attualmente se io ho un impianto fotovoltaico montato a tetto faccio una convenzione con il GSE e per prevedere come retribuirmi l'energia che scambio con la rete se scambio sul posto o o meno o se è un prelievo diretto cioè se ci fossero più utenti attivi integrati in una smart grid come come verrebbe modificarsi questa relazione di scambio con la rete allora diciamo che qui si parla di flessibilità ed è uno degli argomenti caldi del prossimo futuro in ambito di ricerca e anche noi stiamo lavorando su un progetto di ricerca nazionale che riguarda proprio questa questa tematica molte volte le problematiche che si hanno nella gestione delle reti conseguenti soprattutto allo sviluppo delle fonti rinnovabili ma anche ad esempio a alcune punte di carico abbastanza intense ma di breve durata sostanzialmente sono appunto problematiche che hanno la durata limitata nel tempo cosa si faceva in passato si aumentava il dimensionamento della rete con la conseguenza di andare a mettere trasformatori molto grandi linee molto generose tendenzialmente esercita sempre in maniera molto scarica un esempio di coinvolgimento dell'utenza finale appunto è la flessibilità se il mio impianto fotovoltaico per 5 ore all'anno crea un problema alla rete io mi rendo disponibile a ridurre il mio output fotovoltaico in quelle 5 ore in modo tale da non creare un problema alla rete per conto il distributore non deve andare a fare interventi di potenziamento di linee trasformatori e mi riconoscerà un certo valore diciamo del servizio che ho fornito ok ma quindi ma tutto questo procedimento poi sarebbe ovviamente automatizzato e controllato quindi alla fine il coinvolgimento diretto dell'utente non so se ho capito male ma non cambierebbe rispetto all'attuale cioè l'utente non deve preoccuparsi di monitorare costi sì non cambierebbe l'attività che deve fare manualmente l'operatore diciamo che l'utente si metterebbe a disposizione per fornire in maniera automatica questi servizi che verrebbero scambiati tra la rete e l'utente stesso e di conseguenza si troverebbe se vogliamo in bolletta finale la remunerazione di questi servizi di flessibilità che può mettere a disposizione stessa cosa la può fare con la batteria di accumulo piuttosto che con l'auto elettrica se io in quel momento so che c'è un picco di carico sulla rete la rete mi dice attenzione non ricaricarmi l'auto elettrica dalle 7 alle 9 intanto ti serve domani mattina alle 7 ricarica dall'1 alle 3 ti costa meno rispetto a ricaricarti dalle 7 alle 9 ecco che allora se c'è questo dialogo tra la rete e l'utente l'utente può scegliere di assecondare questa richiesta di flessibilità e essere remunerato per questo oppure non accettare questa richiesta di flessibilità e pagare di più il servizio ultima cosa allora poi mi taccio ma questo dialogo come avviene cioè viene all'atto della stipulazione del contratto per cui si decide si decidono determinati vincoli perché ad esempio il fatto che la rete sia particolarmente caricata in un certo periodo del giorno io utente finale se non la tengo monitorata non lo so quindi dovrà essermi comunicato in qualche modo l'utente non ha modo di saperlo nel senso che l'utente vede fino al suo contratore probabilmente in questo momento non è ancora qualcosa di normato qualcosa che si sta valutando in fase di stipula contrattuale si dà la disponibilità a fornire questo servizio e si identifica ad esempio un canale di comunicazione che può essere una fibra ottica o quant'altro per altri contattori di seconda generazione hanno l'ingresso per la fibra ottica e quindi si contratta una disponibilità e dopodiché è la rete che sapendo che può disporre di quella macchina va direttamente a quella macchina richiedere ad esempio un abbassamento di potenza la cosa viene conteggiata da un punto di vista contabile da un punto di vista tariffario e remunerata a consultivo tipicamente ok grazie ecco non è ancora qualcosa che esiste qualcosa che stiamo cercando di mettere in piedi per farne capire i vantaggi e le modalità bene se Simone Stech è presente gli lascerei la parola eccolo qua buongiorno bro tutti i miei tesi collegati fantastico ed ex tesi buongiorno Simone come andiamo bene bene tu bene non ci lamentiamo no io volevo chiedere almeno per quanto riguarda l'Italia quanto ha senso fare affidamento sul vettore energetico dell'idrogeno perché leggevo un articolo qualche mese fa a riguardo che ad esempio paesi come la Germania o la Francia se non sbaglio hanno già investito parecchi milioni di euro in per lo sviluppo di questo di questo di questo settore mentre invece l'Italia è rimasta un po' indietro e quindi mi domandavo ha senso considerarlo in Italia appunto come mix come facente parte del mix energetico delle fonti quando ancora le colonie di ricarica sono praticamente non dico un'utopia ma quasi diciamo che l'idrogeno di sicuro come dicevo prima non è una fonte è un vettore lo possiamo utilizzare per accumulare in maniera abbastanza efficace pur con rendimenti di carica e scarica ancora non elevatissimi e ovviamente stiamo parlando di quello che è l'idrogeno chiamato verde quindi quello prodotto da fonte rinnovabili perché poi posso avere anche quello blu posso avere quello nero e in quel caso non è più un qualcosa da integrare nell'ottica transizione energetica ma è semplicemente una produzione di idrogeno da combustibili fossili faccio un salto breve di un paio di slide visto che le avevo preparate ma poi le avevo tolte per una questione di tempo sicuramente l'idrogeno ha dei vantaggi nel senso che innanzitutto potrei considerarlo come vettore energetico in processi che richiedono la fiamma quindi utilizzato proprio meramente come combustibile possono esserci delle sinergie legate con con la rete infrastrutturale già esistente del gas si sta ragionando anche su distribuire un mix di metano idrogeno con struttura esistente e ovviamente utilizzo che secondo me è quello principale e forse più vicino dal punto di vista temporale a stoccaggio di energia quindi la comunità europea sta investendo in maniera abbastanza consistente su questa tecnologia con diciamo 470 miliardi di euro al 2050 e dandosi già dagli obiettivi di produzione al 2030 quindi c'è un obiettivo di prodursi 10 milioni di tonnellate di idrogeno al 2030 e questa immagine che trovate qui in questa slide è a fonte Siemens quindi uno dei produttori coinvolti diciamo in questo processo ci dà un'idea di quello che può essere l'ambito di applicazione di questo vettore che effettivamente è abbastanza ampio e va dall'agricoltura fino ai settori chimici fino alla gestione termica degli edifici e combustibili quindi le potenzialità ci sono bisogna risolvere una serie di aspetti tra cui gli rendimenti di conversione che attualmente non sono ancora elevatissimi rispetto a uno storage elettrochimico altro aspetto importante è che un sito che produce idrogeno è un impianto chimico di tutti gli effetti e ha delle sue rampe di funzionamento quindi pensare di utilizzare accendere e spegnere un impianto di questo tipo per compensare la variabilità giornaliera del fotovoltaico la vedo un po' difficile in questo momento dovrebbe essere qualcosa strutturato per utilizzare il surplus di produzione rinnovabile in maniera abbastanza continuativa quindi sicuramente è qualcosa di interessante sul medio periodo però va sviluppato bene insomma non è che basta mettersi dei soldi su quell'argomento per risolvere il problema ci sono ancora tanti aspetti aperti che dobbiamo risolvere grazie sì ti posso anche dire che qualche settimana fa c'è stata una conferenza in cui hanno partecipato anche i CEO di Enel Eni Snam Snam Metal Gas c'è personalità di un certo livello e loro proprio sull'idrogeno sulla sinergia rinnovabile idrogeno e loro ci stanno investendo in realtà Snam per esempio sta credo stia realizzando in questo periodo un progetto pilota in Sardegna in cui la rete è tutta smart la rete gas è stata fatta nuova ed è smart per appunto il test di miscele che comprendono anche l'idrogeno sulle loro reti e c'è anche partnership per la costruzione di elettronizzatori e quindi sembra che potrebbe essere una realtà in tempi non troppo lunghi però appunto come diceva il professore ha le sue limitazioni l'acronimo in questo caso è P2G quindi Power to Gas l'idea di convertire in combustibile gassoso un surplus di disponibilità rinnovabile il gassoso potrebbe essere il metano sintetico o l'idrogeno bene un'ultima micro domanda per quanto riguarda invece l'installazione di queste colonnine elettriche ci sarà un'installazione massiva nei prossimi da quest'anno in poi oppure andrà continuamente a rivento come a finora perché al di fuori dei centri commerciali non le ho mai viste ma allora come dicevo prima c'è un problema diciamo di gatto che si morde la coda o prima uova o prima la gallina nel senso che chi compra l'auto non la compra elettrica perché non ha le colonie di ricarica chi fa bene sulle colonie di ricarica non le installa perché dice che tanto non c'è l'auto elettrica quindi cosa ne stanno a fare sicuramente sta cambiando la visione verso l'auto elettrica e questo sostanzialmente cambierà un po' le cose nel prossimo futuro c'è un piano di installazione di un certo numero di colonie di ricarica che non è comunque elevatissimo per intendersi vengono ancora un po' viste come mosche bianche o cose di questo tipo molto spesso quelle che sono state le installazioni finora sono state più per motivi di immagine o di altro tipo appena si capirà che queste qui non sono dei carichi aggiuntivi ma sono degli elementi utilizzabili per la regolazione delle reti probabilmente qualcosa cambierà anche su questo è una delle tematiche su cui stiamo lavorando qui in dipartimento grazie bene allora proseguiamo con le ultime domande e se Francesco vuole vuole esprimersi ok se no leggo io allora Francesco chiede una domanda sui sempre sul sui veicoli elettrici una delle critiche principali riguarda le batterie in particolare i materiali con le quali sono costruite e poi il loro smaltimento è un problema che è già stato superato sono stati fatti gli studi nei quali è stata calcolata la CO2 risparmiata o meno nell'intero ciclo di vita di un veicolo elettrico batterie comprese rispetto a un autoveicolo tradizionale allora non è stata una risposta precisa nel senso che tipicamente io vedo l'auto elettrica al di là della colonnina nel senso che il mio ambito di ricerca è più sulla parte reti e quindi l'utilizzo di quel dispositivo a scopo rete quindi non sono un esperto massimo di veicoli elettrici e sicuramente c'è un tema di materie prima che sta portando anche delle forme nuove con l'orientazione a livello mondiale c'è un tema di disponibilità di queste materie c'è un tema di centralità di alcune economie nel avere le mani in questi giacimenti quindi sostanzialmente chi si è mosso per primo non sono negli europei negli americani ma è il mondo del farista che in qualche maniera ha messo le mani su questi giacimenti però ci sono delle ricerche interessanti per utilizzare i materiali diversi quindi nell'approccio con tecnologie se chiamiamo le note questo potrebbe essere un limite o comunque un fattore di crescita si sta lavorando perché questo non diventi un fattore di crescita sulle tecnologie attuali si lavora sul riciclaggio quindi non inteso come riutilizzo di celle ma come riciclaggio delle materie prima come sostanzialmente è stato da sempre fatto nel piombo nel senso che se vi è capitato di cambiare la batteria dell'auto non dovete essere voi che smaltite la batteria non vi viene messo in conto il costo di smaltimento perché la batteria usata viene ritirata in quanto il valore delle materie prime rigenerate è maggiore rispetto al costo di smaltimento un approccio simile verrà pronto avanti anche con le altre tecnologie con la differenza che ovviamente abbiamo in questo caso un ventaglio di tecnologia abbastanza erogeneo mentre nel caso delle batterie d'avviamento storicamente è sempre stata una batteria del piombo quindi è molto più facile da fare bene la ringrazio da parte di Francesco e lascio la parola a Gabriele Volpato se vuole esprimersi sì grazie buonasera professore allora volevo chiedere quale sarà il ruolo delle strategie di demand response nelle future reti smart grids quindi con demand response intendo principalmente strategie per esempio per il taglio dei picchi di domanda cercando di coinvolgere in modo attivo appunto gli utenti lato domanda quindi prosumers e se esiste una possibile previsione della percentuale di utenti finali tipo prosumers che magari entro il 2030 e entro il 2050 potranno partecipare in modo attivo a queste strategie perché non credo che si possa arrivare subito ad un 100% di utenti attivi attivi in questo senso ecco allora direi che beh la prima domanda l'abbiamo citata un po' prima anche nel senso che la demand response in qualche maniera rientra in quella classificazione di utente attivo che può essere flessibile rispetto a una richiesta della rete quindi può modificare il suo profilo di carico può tagliare la sua generazione può utilizzare i sistemi di accumulo per modificare il suo profilo di comportamento verso la rete rispetto a quello che sarebbe se non ci fosse un sistema di accumulo quindi posso fornire più potenza alla rete se è in deficit posso ridurre il prelievo della rete se questa è contingentata e ovviamente questo si dovrà tradurre in una corrispondente corrispondente alla remunerazione economica quindi in un interesse dell'utente adottarsi di queste tecnologie sia hardware che software per fornire servizi quindi sia il controllore per intendersi sia gli oggetti da controllare che possono essere l'impianto di generazione dei carichi controllabili o modulabili come può essere la pompa di calore piuttosto che altri elettrodomestici eccetera forme molto grezze se vogliamo di demand response ci sono già da diversi anni ad esempio in UK c'è un'azienda che ha fatto del business vendendo dei dispositivi da collegare tra la presa a muro e la spina del frigorifero quindi sostanzialmente questi dispositivi misuravano la frequenza se vedevano che la frequenza era bassa impedivano cioè disalimentavano la presa in modo tale da impedire che il compressore del frigorifero si accendesse e di conseguenza questo a un punto di vista equivalente su top centinaia di migliaia di pezzi corrispondeva a un abbassamento del polievo in caso di deficit di frequenza questo è un servizio verso la rete di trasmissione ovviamente perché tipicamente è Eterna che deve gestire la frequenza di rete qualcosa di simile potrebbe innescarsi da un dialogo tra il distributore e l'utente attivo attraverso le opportune piattaforme e i canali che dovranno essere sviluppati non sono a conoscenza di scenari sviluppati su una diffusione percentuale di utenti di questo tipo ma secondo me la cosa sarà molto legata a quelle che saranno le regole del gioco nel senso che se farlo diventerà molto interessante da un punto di vista economico perché costa poco ma può avere un'extra remunerazione significativa la cosa sarà accelerata se invece le regole del gioco imporranno che la cosa diventi obbligatoria per i nuovi impianti automaticamente tutti i vecchi impianti non lo faranno quindi dipende veramente tantissimo delle regole del gioco quindi il nostro sviluppo tecnico va a fotografare le potenzialità dopodiché chi definisce il contesto normativo il paninsesto implementativo va ad avere un ruolo molto significativo in quello che sarà il successo o il insuccesso di una tecnologia al momento c'è un foglio bianco quindi non c'è veramente nulla di definito grazie ok allora siamo un po' fuori tempo però io lascerei a Filippo Mastropaolo fare le ultime domande e poi direi che possiamo salutarci sì grazie guarda sono velocissimo cercherò almeno di essere velocissimo prego allora una domanda riguardava un po' l'utilizzo su riguardo l'uso l'utilizzo delle fonti rinnovabili o comunque degli impianti funzionanti a fonti rinnovabili per ad esempio controllo della frequenza controllo della regolazione della tensione in quanto io so che il TSO e i codici di rete italiane non prevedano l'utilizzo appunto di questi impianti specialmente per la regolazione primaria della frequenza mentre in tanti altri casi in Europa e anche di fuori dell'Europa già ci sono sistemi abilitati dai grid codes per fare in modo che ci possano essere regolazioni di frequenza grazie all'inerzia sintetica e volevo capire perché questo avveniva a livello nazionale sì allora qui devo differenziare un attimo la trasmissione dalla distribuzione quindi nel caso partiamo dal caso più semplice la distribuzione le regole di connessione che sono la C016 e C021 rispettivamente per media e bassa tensione già prevedono delle funzioni chiamate funzioni stabilizzanti quindi ad esempio se ci dovesse essere un surplus di frequenza i generatori che entrano che sono entrati in esercizio dopo una certa data ovvero dopo la data di applicazione dei grid codes devono ridurre l'output di potenza fino anche ad azzerarsi qualora ci sia appunto un eccesso di frequenza non è una vera e propria regolazione primaria ma è un contributo a non alimentare la sua frequenza una considerazione simile c'è in termini di tensione quindi un comportamento reattivo quindi uno scambio di potenza reattiva in attiva capacitiva in funzione di quella che è la tensione misurata ai nodi e con questo esauriamo la media e bassa tensione sulla tensione invece quello che lei diceva prima in realtà ha iniziato ad essere diffuso con gli ultimi legati terna in particolar modo quello legato A17 per gli impianti eolici e A52 per il fotovoltaico vengono introdotti dei comportamenti inerziali soprattutto sull'eolico che non è una vera e propria inerzia sintetica ma è un boost di potenza a discapito tipicamente della velocità di rotazione delle pale quindi se io ho un calo di frequenza viene richiesto di rallentare intenzionalmente le pale per fornire un delta potenza in più viene chiamata regolazione inerziale anche se in realtà è un delta P per intendersi richiesto per una certa durata temporale che può essere al massimo di 30 secondi è qualcosa che è stato introdotto l'anno scorso per tutti gli impianti che entravano anzi per la precisione per tutti gli impianti le cui pale erano state ordinate dopo di maggio 2020 quindi qualcosa si sta muovendo anche in questa direzione anche in Italia ok bene grazie e avrei un'ultima domanda scusi concludo un attimo un'altra cosa perché me l'avevo richiesta prima la regolazione primaria invece è già richiesta quindi le macchine sia gli inverter per il fotovoltaico che gli aerogeneratori devono essere in grado di recepire un funzionamento a regolazione primaria andando a funzionare intenzionalmente in maniera non ottimizzata al momento l'erogazione del servizio non è richiesta ma la macchina adesso è già poi disposta per farlo ok ok grazie l'altra domanda che volevo fare riguardava il sistema del mercato elettrico e come potrebbe variare se verrà sconvolto con un aumento dei prosumers che poi si presume o penso che quello sia il trend che si vuole raggiungere andranno a sostituire alcuni tipi di impianti più vecchi comunque di larga scala allora un impatto macro sul sistema elettrico lo stiamo già vedendo nel senso che l'andamento di prezzi è molto diverso adesso rispetto a quello che c'era 15 anni fa già oggi ci sono delle ore in cui il prezzo di energia è zero e in futuro si prevede che il prezzo possa diventare addirittura negativo cioè che l'utente sia pagato per consumare perché c'è un surplus di generazione da rinnovabile questo tipicamente avviene in aree che sono debolmente interconnesse o se non interconnesse ad esempio a Sicilia e a Sardegna per fare due esempi concreti quello che cambierà però è diciamo sia il mercato centralizzato che andrà a trattare in maniera diversa il giorno prima rispetto ai mercati di bilanciamento e sia l'insorge di nuovi mercati perché ad esempio i servizi di flessibilità lato di distribuzione non passeranno per un mercato centralizzato perché non ha senso se io ho bisogno di regolare la mia rete di distribuzione che può avere un'estensione di qualche chilometro non è che posso andare a prendermi la risorsa in un'altra regione devo prendermela necessariamente in ambito strettamente locale e di conseguenza oltre a un mercato centralizzato diverso e strutturato per gestire delle quantità crescenti di rinnovabile ci sarà anche un mercato locale e qui bisogna capire da chi si deve essere gestito e quant'altro per procurarsi su scala ridotta dal punto di vista territoriale quelle che sono le risorse che sono localmente richieste per risolvere dei problemi di rete quindi ci saranno dei nuovi scenari quindi da tenere in considerazione in futuro assolutamente sì ci sono tanti scenari che sono stati studiati anche in relazione all'interazione che ci deve essere tra chi gestisce la rete di trasmissione e chi gestisce la rete di distribuzione perché a rigore attualmente sia Terna che i vari distributori sono solo dei gestori di rete non possono avere propri impianti di generazione non possono avere altre funzioni che magari in futuro gli saranno concesse quindi anche ad esempio quella di gestire dei mercati locali non è ancora tutto definito se ci deve essere l'autorità se potrà essere il distributore se deve essere un ente terzo eccetera è veramente uno scenario assolutamente in divenire e che avrà una forte influenza su quello che sarà la tecnologia vincente e quella che sarà la tecnologia perdente in tutto questo perché ovviamente in base a come ha disegnato il mercato c'è più o meno interesse degli attori a partecipare offrendo a prezzi più o meno alti quindi ci si sposta da un dominio puramente tecnico a un dominio che deve considerare anche gli aspetti di mercato e quindi più economici ok ok grazie bene con questo direi che abbiamo concluso le domande ah chiede un ragazzo chiede se può ripetere gli allegati Terna assolutamente sì allora sul sito di Terna trovate il codice di rete complesso complessivo che è composto da una serie di allegati l'allegato specifico per gli impianti eolici collegati alla rete di alta tensione è l'allegato A17 A.17 mentre per la parte degli impianti fotovoltaici sempre collegati all'alta tensione è l'allegato A52 sicuramente 2 adesso mi avete fatto venire dubbio che sia 62 o è a 52 o è a 62 sulla A17 sono sicuro ci abbiamo lavorato per anni per scriverlo quindi sono molto sicuro va bene allora ringrazio tutti anche quelli che i pochi che sono rimasti duri e puri fino adesso e il professore ovviamente ok